Ok ragazzi, adesso li faccio tutti fuori ragazzi Guarda un altro Cavolo Alla prossima 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 Ciao a tutti, ragazzi e ragazze Benvenuti su Gioca con Mike Ragazzi e ragazze Sì, lo faccio Gioco a Fortnite ragazzi E non è che non ci ho mai giocato Ci ho già giocato con un account tedesco Che c'ho di Epic Ci ho giocato forse 20 ore, 25 orette Ho imparato un po' come si costruisce Fare ste cose Ho fatto 5, 6 kill Sono arrivato Mai primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto Forse posto 11 e così sono arrivato È la migliore cosa che ho fatto ragazzi Però è passato un anno di tempo Quindi, diciamo che iniziamo ragazzi Perché voglio fare questa nuova serie di Fortnite Da noob a pro ragazzi Sono Nabbo e voglio diventare pro Ce la faccio in, diciamo, un mese Due mesi, tre mesi, cinque anni, vent'anni Non lo so, vediamo ragazzi Aiutatemi, scrivetemi nei commenti Come posso giocare meglio ragazzi Perché faccio schifo Se c'è un gioco che faccio schifo È Fortnite e l'ho visto in quelle 25 ore che ci ho giocato Comunque, ci vediamo fra poco A presto Allora, eccoci qua Questi qua, già guarda come mi guardo Ma questo c'ha i vestiti normali Come si corre? Ah, corre sempre Ok, prendiamo un po' di metallo Ah, devo colpire sempre quel centro rosso qua Devo Ecco qua Non è facile, ma sono un po' troppo veloce forse Mannaggia, se era Counter Strike Mi facevo tutti fuori E mo? Una storide ragazzi Figo Allora, dove devo saltare? Per prima cosa, ragazzi Ditemi Dove si salta Io Spazio per saltare Vado Vado Tieni premuto in avanti Per scendere giù velocemente Raggiungi il terreno in fretta Ragazzi, voglio aiutatemi Scrivetemi nei commenti Come migliorare su Fortnite Che fra uno Due mesi Facciamo due mesi Voglio giocare come un pro Ragazzi Voglio giocare come un pro Anche se la mira fa schifo E lo farà sempre Ok, che cos'è? Non lo so Cazzo è questo? Ah, è il trampolino Questo l'ho già visto nei video Ok È alto È più alto Cavolo Ah Il cerchio cercavo, ragazzi Usa il tu Che? Usa il tu Che? Mietitore per la cosa Ah, è materiale Mietitore Meteorita Allora, cerchiamo di beccare Il minchia È difficile, ragazzi Non è facile Aspettate un po' Devo spostare la roba Sul tappetino del mouse È bello che prendo roba Qua io manco so costruire Ragazzi Pro Sono già pro, ragazzi Sono già pro Guardate Manco uno Ne prendo Che schifo La miseria Ok, aspettate ragazzi Devo imparare un po' Q Ah, scelgo così Ah Ok, capisco Ah, ma certo Ma certo Ma certo Che minchia è? Mi fa paura, ragazzi Mi fa paura questo Io l'ho fatto quasi fuori Eh, sono nervosissimo Non ho mai giocato Mi sta facendo fuori Dove cazzo è? Allora, facciamo così Ragazzi Io scappo Ah, si sta Sta combattendo con un'altra Minchia Se prendo Sarebbe il mio primo kill No Sono caduto Sono caduto Cazzo la miseria Allora, sono andato bene però Lo stavo quasi facendo fuori Ma non era lui Era un altro Cavolo Alla prossima Ragazzi Mi ha detto un amico Se vuoi imparare a sparare a Fortnite Prima devi morire 100.000 volte Come in Apex Legends, ragazzi Ok, ragazzi Adesso li faccio tutti fuori, ragazzi Banane Perché ci sono banane Mi fanno fuori Mi fanno fuori Non riesco neanche a ucciderlo E il mio primo kill Ragazzi Il mio primo kill Che cazzo è? Minchia ragazzi Che kill Ho fatto due kill Alla terza partita Che pro, ragazzi Che pro, ragazzi Ma dove andate? Basta che faccio rumore Si vede come sono pro Non si rompe Non ci vedo Ragazzi Due kill, eh Due kill, ragazzi Terza partita Sono pro Sto diventando pro Staminchia Staminchia No, ragazzi Per la terza partita Non vado male Sto imparando Dai, aiutatemi un po' Scrivetemi nei comment Che devo fare Dai Prossima E i capelli uguali Dei miei, ragazzi Guardate Se io, se io Apro qua i capelli Sono uguali Uguali Posso guardarlo? No Non posso guardarlo? No No, no A nulla No 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 Oh il fucile No ho tolto il fucile Cazzo non dovevo Ragazzi non mi ha ucciso Minchia hanno ucciso tre Ok sto facendo un macello Non so neanche quello che sto prendendo Ragazzi calma calma Allora La prima cosa Bevo questo Madonna ragazzi sono emozionato Tre chili ragazzi Adesso prima ragazzi Aspettate ragazzi mi devo concentrare Già che faccio schifo La sniper la metto qua perchè mi servirà all'ultimo posto Questa questa sniper E gli ho fatto finta che sono già pro ragazzi Ah aspetta c'è quella blu Facciamo così No facciamo Aspetta ragazzi come faccio vedere un trucco comparato Anche nei video ecco qua Due fucili Cambiando posso uccidere le persone prima Dicono Ok ragazzi Mia adesso Sono morti tutti ragazzi Due fucili blu ragazzi dove cazzo vanno Ragazzi dove vanno Ma non devo neanche costruire io a fortnite Ah qua non si può costruire Dai scendi giù Dov'è non lo vedo Mannaggia la miseria ragazzi Però eh Prima volta a fortnite Primo video ho fatto 5 kill ragazzi 5 kill Non erano male un paio Non erano male ragazzi Perfetto ragazzi Credo che sia finito con fortnite per adesso Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi Scrivetemi nei commenti come migliorare su fortnite Ancora non ho costruito Perché ancora costruito non so neanche come funziona Giusto però Ci proverò nei prossimi video ragazzi Il vostro gioca con Mike Iscrivetevi Condividete il video ragazzi I titoli dei vostri amici A scuola Genitori Nonna Bisnonna Tutto quello che avete ragazzi Mettete un bel like sotto il video E ci vediamo nel prossimo video ragazzi E non dimenticate le sponsorizzazioni Che usciranno uno per uno Ho fatto 5 sponsorizzazioni per i video Ci vediamo ragazzi Il vostro gioca con Mike Ciao a tutti